Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove ci sono due chilometri di coda per un incidente avvenuto tra Incisa, Reggello e Firenze Sud, in direzione Bologna. Un incidente avvenuto anche in A11, tra Pistoia e Montecatini, in direzione Pisa. Guidare con prudenza per il vento forte in A1, tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino, in A12, tra Pisa Centro e Rosignano e in FIPILI tra la diramazione per Pisa e Livorno Centro. Sulla statale 12 della Betone del Brennero, tratto chiuso per una frana al chilometro 60 e 150 in località Giardinetto. Senso unico alternato in entrambe le direzioni per una frana tra Popiglio e La Lima al chilometro 69 e 950. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!